È sempre bello essere qua in una casa di palacanestro, una cultura di palacanestro a livellato. Non è facile vincere qua contro Varese, una squadra ben preparata, una squadra che ha una propria idea di palacanestro. Però stasera di due filosofie un po' più diverse, è vinta nostra, abbiamo tagliato tanto il loro gioco, abbiamo rischiato qualche volta penetrazione per togliere i punti da tre e controllare gli imbalzi. Penso che questo era chiave, limitare i loro tiri da tre è molto molto difficile, una squadra che con 77 punti ha fatto 14 tiri da tre, dunque non è facile. Però penso che questa sera abbiamo dimostrato che siamo una squadra che veramente gioca difesa di un livellato. Grazie mille.